Sarà un viaggio nella ricerca, quello della settimana della scienza che inizia il prossimo 24 settembre e si chiuderà il 1 ottobre con il Clou il 30 settembre, data ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori. Quasi 400 appuntamenti in una settimana per capire le scienze del cibo, quelle dello spazio, le energie, la fisica e la chimica per l'ambiente, per seguire i percorsi dell'acqua, per vivere in modo sostenibile, per avere un futuro. Prendersi cura del futuro del pianeta è il titolo della diciassettesima edizione della Notte organizzata da Frascati Scienza, la più antica nel nostro paese, ma tantissimi sono i progetti italiani aderenti a questo evento che in tutta Europa celebra i protagonisti della ricerca. L'Italia infatti, con otto progetti finalizzati dalla Commissione Europea, è il paese europeo che più di tutti celebra i protagonisti della ricerca. Cresce anche il numero di località coinvolte nel programma. L'IF quest'anno sarà in 23 città. Moltissimo accadrà a Roma, dove tra università, centri di ricerca di fondazioni, ospedalieri e universitari, CREA, Istituto Centrale per il Restauro, Banca d'Italia, si conteranno tantissimi eventi. Frascati, ovviamente, quale città insediata nel polo di ricerca tra i più grandi d'Europa ospiterà centinaia di appuntamenti per grandi e piccini.